Dalla fine del mese di agosto è tornato ad essere la struttura di riferimento dell'Asl Napoli 3 Sud per i pazienti Covid. Ai microfoni di TV City il direttore sanitario aziendale Gaetano Donofrio fa il punto sulla situazione del Covid Hospital di Bosco Trecase e fa chiarezza sulle prestazioni erogate al momento dal presidio ospedaliero. La regione Campania ha attirato la fase A nella quale fondamentalmente inizialmente era solo il cotugno, poi si è passata alla fase B nella quale come prevista la delibera regionale i Covid ospedali dedicati esclusivamente al Covid dovevano attivare un certo numero di posti letto e in questa fase B il Covid ospedale di Bosco Trecase doveva attivare 37 posti letto. L'ospedale attualmente può contare già su posti letto in terapia intensiva e subintensiva, prevista nei piani dell'azienda una successiva implementazione. Prima dell'indicazione di venerdì scorso di passare alla fase C, già noi avevamo superato i 37 posti letto previsti e attualmente rispetto a quelli che sono previsti complessamente nel misura di 87 posti letto da arrivare, noi già stiamo sulla disponibilità di questa cifra, il che non vuol dire fortunatamente che tutti i posti letto occupati, soprattutto in rianimazione. In questo momento quanti sono i pazienti ricoverati e quanti in terapia intensiva? Due in terapia intensiva, 14 in subintensiva e 44 in ricovero ordinario. Quindi sicuramente è prevista, come lei diceva Pocanzi, un'implementazione di posti letto, quindi al momento però la disponibilità di posti letto a quanto arriva? Sono 13 in rianimazione, sono 20 in terapia subintensiva e sono 52 in ricovero ordinario. Noi puntiamo, diciamo in alcune settimane, di aprire altri 12 posti letto, ma già adesso, come vedete, i numeri sono superiori a quanto previsto dalla fase C. D'altra parte, noi puntiamo sul poter offrire il più possibile alla platea degli assistiti questa disponibilità in modo da non ingolfare i pronto soccorsi, perché in questa fase, a differenza della fase del lockdown, dove nel pronto soccorso andava solo chi veramente stava poco bene, in questa fase invece accessi ai pronto soccorsi sono tornati alla fase pre-covid, per cui abbiamo 160, 180 accessi al giorno a Castellammare, 150, 170 a Nola. E quindi ovviamente coloro che vanno in pronto soccorso per un meccanismo di pre-triage vengono comunque, diciamo, diagnosticati, per cui se risultano con le IgG o le IgM positive si fa il tampone e quindi molti positivi vengono così individuati che questo permette a una parte di non inquinare le parti perché vengono bloccati giù l'area covid e il pronto soccorso come sospetti o come positivi. Quindi in questo momento che ci si augura sia soltanto temporaneo, l'ospedale di Bosco Tre Case è dedicato solo a garantire l'assistenza ai pazienti covid, quindi al momento tutte le altre attività di questo ospedale sono ferme? Le attività per pazienti non covid. Voglio chiedere una cosa fondamentale. L'ospedale di Bosco Tre Case, come già fatto nella prima fase del lockdown, garantisce prestazioni a vasta gamma, quindi non solo la terapia per quanto riguarda i pazienti covid, ma anche interventi che possono essere sia di emodinamica, per capirci. Abbiamo avuto sei casi di infattuati covid positivi, interventi ortopedici, se dovessimo avere un fratturato urgente covid positivo. Quindi quello che forse non si riesce a spiegare bene è che l'ospedale covid dà prestazioni che non sono solo di natura internistiche o rianimatorie, ma solo per i pazienti covid positivi, laddove in caso di urgenza e emergenza anche altre prestazioni. Mentre per quanto riguarda tutte le prestazioni, esse non possono essere dedicati ai covid negativi.